Ciao, da 1 a 10, come stai? A questa domanda ha risposto una bambina poco fa. 10. Questa è la risposta, questa è l'unica risposta, è la risposta della conoscenza, una conoscenza che alberga nel profondo dentro di te, una conoscenza che Alberto Ferrarini sta portando a galla, in Italia, in Europa, nel mondo intero, per oggi, per domani e per i giorni che verranno. Perché se la risposta è 1, vuol dire che tu domani sarai 1, mentre se la risposta domani è 10, tu domani sarai 10, domani nasce da oggi, oggi nasce da ieri, allora stai sul 10 per essere 10 anche domani. Io ti abbraccio, ti invito a mettere like a questo video perché desidero che la mia voce, una grande voce, possa arrivare a chi ne ha bisogno in questo momento. Condividi questo video, condividilo con tutti, condividilo con la tua anima soprattutto, perché lei sa, lei conosce quello che tu hai dimenticato nella tua testa, perché quella testa nasce oggi, mentre la tua anima è sempre stata lì. Allora iscriviti a questo bellissimo canale, un canale forte, un canale autentico e soprattutto un canale che porta la conoscenza. Un abbraccio. A UG!